Finalmente, 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 siamo invecchiati tutti, Dio Bono, 51 giorni dopo, 50 giorni dopo, quanto è passato, 51 giorni dall'ultima volta che appunto ho fatto il video del pre-partita, perché lo scorso pre-partita ragazzi era Milan-Fiorentina finita 2-1 e sappiamo tutti il perché, quindi non è che mi sono dimenticato, cioè in quel pre-partita il risultato ragazzi non l'ha indovinato nessuno, perché qualche d'uno ha indovinato il risultato esatto, qualche d'uno ha indovinato le A come primo marcatore, ma non ho voluto premiare nessuno perché effettivamente c'era diversi, diversi che avevano, eh un po' un po' un po' un po' nessuno aveva azzeccato per bene, quindi vi ricordo ragazzi iniziamo bene, riniziamo bene, scrivetemi sotto nei commenti chi secondo voi sarà in questa partita, il risultato esatto innanzitutto e poi il primo marcatore ovviamente. Mamma mia quanto è passato ragazzi, ricordiamoci ovviamente, ricordiamoci perché questi amichevoli sono stati tutte rose e fiori, dove, da dove ripartiamo? Perché ripartiamo da una situazione di classifica del cazzo, perché comunque sì siamo una delle squadre che in questo momento ha passato diciamo queste festività come una delle più in forma, perché in generale si è sempre fatto risultato, anche contro delle squadre non proprio abbordabili per la nostra caratura e anche per la nostra situazione di classifica, ricordiamoci ragazzi siamo decimi, siamo a 19 punti, ci sa il Torino sopra a 21, mi sembra poi l'Udinese a 24 e poi via 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 discorrendo. Ci siamo finiti per demeriti nostri, ma anche per demeriti della conduzione arbitrale delle varie partite, perché lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di rimarcarlo. Adesso andiamo a affrontare il Monza, Monza in casa ovviamente, quindi nemmeno da dire che ci sarà bisogno di fare per forza bottino pieno, le prossime partite andranno per forza portate tutte a casa, perché ora ci sa il Monza, poi avremo il Sassuolo, poi avremo la Sampdoria in Coppa Italia e poi la Roma e poi tutte le altre via discorrendo. Ma queste andranno portate tutte a casa, perché se te tu ti vuoi rilanciare per la Corsa Europa, te le devi portare tutte a casa. Tutte, 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 come sarà finito si deve riniziare, come t'ha finito tu devi riniziare, a bomba. Anche perché adesso non c'è neanche l'attenuante e ti manca mezza gente, perché adesso sono tornati essenzialmente tutti, tutti. Le va con qualche uno e c'ha ancora bisogno di fare preparazione, magari qualcuno l'ha appena rientrato, vedi Amrabat, non lo so se partirà magari lui dal primo minuto contro il Monza, appena rientrato dai mondiali, l'ha rientrato ieri l'altro, qualche uno ancora non è al 100% della condizione, ma ce l'hai tutti, tutti adesso tu ce l'hai. Quindi, ora, italiano deve mettere in campo la miglior formazione, diciamo, di quelli più in forma che sono in questo momento, e di quelli ovviamente che pensa potranno essere più utili contro il Monza. Perché ragazzi, il Monza non è una squadra da sottovalutare. Sotto le mani di Palladino ha ritrovato se stessa, dopo una partenza non di merda, di più. Cioè, si pensava già subito di vederla andare giù in Serie B subito, dopo che questa estate si era detto, ah, sarà una grande outsider. Poi, vedi, macina, macina, cambia allenatore, cambia realtà, cambia mentalità, e si sono ripresi alla grande. Quindi non è una squadra assolutamente da sottovalutare, nonostante non siamo nella stessa posizione di classifica. Però ragazzi, ci sarà appunto bisogno di fare bottino pieno, per forza, per forza, ma per forza. Chiunque vada in campo, ragazzi, in questa partita bisogna dare l'anima, perché questi tre punti servano come pane, perché poi tu ci avrai Sassuolo, che anche lì tu dovrai fare bottino pieno, perché poi tu ci avrai la Samp, perché lì nemmeno da dirlo, tu sei in Coppa Italia, va vinta per forza, perché poi tu ci avrai la Roma, perché la Roma, ragazzi, è una squadra che in questo momento, nonostante sia parecchio più in alto di noi in classifica, si trova in difficoltà sotto il punto di vista del gioco. Quindi anche quello sarà un'occasione da sfruttare, senza andare troppo avanti, ragazzi. Partita contro il Monza, che appunto, come già detto, va portata per forza a casa. In campo andranno, penso, tutti titolarissimi. Non vedo grosse mancanze, se non, secondo me, incognita Amrabat, perché torna a cogliere l'altro, che magari potrebbe giocare o Mandragora, in quel caso, nel suo ruolo, o addirittura magari Sorpresa Bianco. Non è che ci farebbe molto dispiacere a tutti, anche perché abbiamo visto nelle amichevoli che ci sono state in queste festività sotto Natale, prima di Natale, che si è comportato sempre molto, 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 molto bene. Quindi, ragazzi, ho comunque da considerare facente parte, appunto, della rosa. Quindi, ragazzi, fatemi sapere sotto nei momenti cosa ne pensate di questa partita. Breve, 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 così, proprio come ho fatto in pre-partita. Quattro minuti e mezzo, cinque massimo. Breve, breve, perché questa va portata a casa, senza troppi cazzi, senza troppe seghe mentali. Quindi sempre Forza Viola, ragazzi. E domani alle sei e mezzo tutti connessi, io, sfortunatamente, lo sapete, partita nel mercoledì, quindi allo stadio non ci potrò essere. Ma tutti connessi, ragazzi, domani, perché va sostenuta. Che voi siate allo stadio o che voi siate a casa. Sempre Forza Viola, ragazzi. Ciao. Grazie. Grazie.